La fusione delle due Aset entra nel vivo. Il 26 di aprile l'advisor consegnerà il frutto del suo lavoro e poi l'amministrazione comunale e i rispettivi direttivi concluderanno l'iter per la fusione. A riprova di questo momento così delicato il fatto che questa mattina nell'ufficio del sindaco l'intero direttivo della partecipata era presente per ribadire a quanto contenuto nell'interrogazione urgente sul tema fusione Aset presentata al sindaco dai consiglieri di minoranza del vecchio Santorelli Garbatini. Le domande contenute nell'interpellanza risultano dal direttivo della holding troppo circostanziate. Ci viene il sospetto dicono che sappiano cose che noi non sappiamo e vorremmo sapere noi da Santorelli da chi ha avuto queste informazioni visto che esiste un patto di riservatezza tra le parti. Il sindaco Seri però a questo punto non gradisce questa ingerenza e mette in riga il CDA. Spetta al sindaco prendere posizione a riguardo, non al direttivo della holding e ribadisce chiaramente che la fusione si farà una volta avuti i documenti per le giuste valutazioni da fare. Confermo sempre detto che noi lavoriamo verso quella direzione che è quella della fusione perché abbiamo due società che sono un patrimonio, sono un valore aggiunto per questa città e li vogliamo bene, vogliamo valorizzarla. Quindi stiamo lavorando, siamo dati degli step, siamo nella fase operativa, la settimana prossima terminerà il lavoro dell'advisor e quindi entriamo veramente nella fase esecutiva dove andremo a fare le scelte definitive ma la strada è quella della fusione. Sono due società che hanno lavorato bene, sono state gestite bene e quindi come sindaco poiché rappresento il 98% della proprietà non posso che esprimere il plauso. Ma questo non toglie che come sottolinea la Presidente Susanna Testa il clima di assalto al forte si avverta chiaramente. Una settimana movimentata, una settimana in cui sono piovute tante domande e ad alcune di esse sicuramente si risponderà perché ormai siamo addirittura d'arrivo con il progetto industriale per la fusione e quindi mi sento di dire che nei prossimi giorni ci saranno delle novità, sarà pubblicato, ci saranno gli incontri con il consulente. A noi si rimprovera il fatto che siamo sempre stati in ritardo. In realtà io qui devo dire che il ritardo non è attribuibile alla Holding, la Holding ha sempre lavorato in sinergia con il Comune, per cui tutti gli atti legati appunto alla documentazione, alla produzione della procedura di gara sono stati sempre supervisionati dal Comune. Quindi i ritardi se ci sono stati, ci sono stati per precisione come dire e collaborazione con il Comune. Capisco poco questi attacchi, abbiamo sempre lavorato pro tenendo presente appunto l'obiettivo finale che era quello appunto dato dal Sindaco. Anche la ventilata fusione parziale e la rescissione del contratto per la riscossione dei tributi con la Duomo viene smentita categoricamente dal Vice Presidente Teodosio Auspici. Asset Entrate che ha il compito di riscuotere i tributi per conto del Comune di Fano e perché no anche per altri Comuni come sua attività, in questo momento svolge insieme in paternariato pubblico privato, insieme a Duomo, questo servizio. In questo momento c'è in esecuzione un contratto regolamentato anche da una gara e quindi da un contratto quadro e io non ravvedo in questo momento quanto viene sostenuto da Santore. Io comunque dico che anche a richiedere informazioni, o quantomeno sono domande, uno può dire che sono domande legittime, però che sottintendono degli allarmismi, io dico di fare attenzione perché comunque quella è una società, sono due società private in realtà, però il nostro partner è un partner sicuramente di proprietà privata e quindi mettere in giro determinate voci, io dico che bisogna essere anche un po' più accorti nel parlare. Essendo stato poi preso in causa direttamente dall'interpellanza urgente presentata dai consiglieri di minoranza, anche Gianluca Cespuglio chiarisce la sua posizione in seno al Consiglio della Holding. Giunge strana questa uscita di San Daniele anche perché è inopportuna e tardiva, oltretutto torno a dire che sono in carica da quasi due anni e la mia nomina e tutti i requisiti sono trasparenti, acquisibili dal sito, hanno subito il vaglio degli organi competenti circa la congruità del mio ruolo e del ruolo per il quale io ho assunto e svolgo all'interno della Holding. Devo essere sincero, tutta questa perplessità espressa dal consigliere Santonelli all'alba della fusione che ci vede sia come forza civica della fama dei quartieri sia come sottoscritto profondi e convinti nel processo di fusione mi lascia intendere che qualcuno qui voglia forse far saltare il tavolo.